Prima giornata dedicata al Festival della Teologia Incontri, siamo con Vito Rizzo e adesso Vito ci spiegherà come funzionerà questa sera proprio per invitare non solo i cittadini ma anche i telespettatori che ci stanno seguendo a seguirci dal vivo ma anche in diretta eventualmente non vogliano insomma o non possano recarsi presso il centro storico dove sarà appunto realizzato il festival. Allora l'appuntamento è nel Borgo Antico di Agropoli, la piazzetta della Madonna di Costantinopoli alle ore 21. Quest'oggi iniziamo con il tema della donna, quindi la donna nella promessa, quindi la professoressa Maria Rosaria Cirella ci accompagnerà in questa lettura della donna nell'Antico Testamento. Poi avremo un intermezzo musicale a cura di Amedeo Giordano e la seconda parte della serata ci sarà la videointervista fatta da Antonia Salzano, la mamma del beato Carlo Acutis, realizzata dalle ragazze dell'Azione Cattolica, quindi da Francesca, Luisa e Vera che hanno intervistato Antonia Salzano a Palinuro, quindi in occasione del conferimento del premio Incontri 2020 e quindi si sarà questa bellissima intervista fatta dalle ragazze che attraverso la voce della mamma hanno raccolto la testimonianza di Carlo Acutis, di un giovane santo, anche se al momento è semplicemente beato, ma le testimonianze di santità di Carlo stanno coinvolgendo tanti giovani in tutte le parti del mondo e quindi è una bellissima testimonianza che cercheremo di raccontare anche noi ed inaugureremo anche nell'oratorio della chiesetta della Madonna di Costantinopoli la mostra sui miracoli eucaristici che ha ideato Carlo Acutis.